Per cui a giugno mio figlio Marco c'aveva ancora due tonsille come due gocumeri e il dottore disse a mia moglie che era indispensabile almeno un mese di mare. Luca apri la bocca? Che? La medicina per maldecollo. Ma maldecollo mica se lo io sono da Marco. Va bene vuol dire che così almeno te non te lo prendi. Piuttosto sarà l'aumento dei prezzi a lasciare tutti con la bocca aperta e le tasche vuote. Marco sono passati cinque minuti? È passata pure un'ora, perché non mi misuri sotto il braccio e mi fanno tutti gli altri? Nel seterino è più precisa. Ancora 38 e mezzo. Dai mettete al letto. Luca apri la bocca? Che è un altro siroppo? No, ti devi misurare la febbre pure te amore. Non ti preoccupa, non ti attacco niente. Non l'ho mica tenuta in bocca. Sapete quanto costa un albergo in mezzo?